Raul Bova torna a vestire i panni del Capitano Ultimo. A Roma sono iniziate le riprese di Ultimo 4, l'occhio del falco. Il set terrà impegnato l'attore fino alla fine dell'estate e per esigenze di copione Bova ha un look tutto nuovo che lui definisce da Moicano. Ritornerò a fare il Capitano Carabinieri Ultimo per la televisione e quindi ho fatto questo taglio un po' Moicano. Nel frattempo, dopo una stagione di successi al Botteghino, Raul si gode i riconoscimenti della critica, come il Golden Globe, attribuitogli dalla stampa estera per l'interpretazione in Nessuno mi può giudicare. Mi piace l'idea che ci sia una stampa estera che comunque porti avanti in giro per tutto il mondo il nostro cinema che parli un po' tutto il mondo di quello che facciamo qui in Italia.